Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Ciclista investito da un'auto a torrette di Fano, trasportato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Ancona Nuovo prelievo multiplo di organi a Santa Croce di Fano, donati a Reni e Fegato Auto sfrecciano ad alta velocità sulla Flaminia Carrara di Fano e i residenti chiedono alla provincia di installare i dissuasori Furti in centro, osservano telecamere più agenti di polizia per poligioni della nuova Fano, la città non è più sicura Maxi bollette dell'acqua, la coalizione di centrodestra inserisce nel programma elettorale il rimborso immediato Mentre il presidente di Asa e Terra applica gli attacchi, anche le opposizioni erano informate Il Partito Democratico presenta la squadra che sosterrà serie alle elezioni di maggio Barnisi e Folvi rinunciano alla candidatura Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli del nostro sommario, un ciclista di 44 anni è stato investito da un'auto lungo la strada nazionale adriatica sud a Torrette di Fano È successo oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30 all'altezza di Via Colle Marino L'uomo in sella alla due ruote si stava dirigendo in direzione Ancona Quando per cause ancora al vaglio della polizia locale di Fano è stato urtato da un'auto Una mini Cooper condotta da una donna del posto di 29 anni che viaggiava nella stessa direzione Nell'impatto il ciclista, residente poco distante dal luogo del sinistro, è finito rovinosamente nel fosso al lato della strada E i sanitari del 118 hanno allertato l'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale regionale Torrette di Ancona Dalle prime informazioni pare che l'uomo non sia in pericolo di vita Illesa invece la conducente della vettura Dopo gli ennesimi furti messi a segno nei giorni scorsi in più negozi del centro storico di Fano Riemerge il tema della sicurezza Le associazioni di categoria e il segretario della nuova Fano Stefano Pollegioni Tornano a chiedere più telecamere e un aumento degli agenti di polizia Il servizio di Lino Balestra Il duplice furto dell'altra notte nel cuore del centro storico di Fano Ai danni di due negozi ha riaperto il dibattito sulla sicurezza Coinvolgendo oltre che le parti politiche anche le associazioni di categoria e i commercianti stessi Confesercenti per la voce del suo direttore Tiziano Pettinelli Ha definito senza mezzi termini questa della sicurezza Un'emergenza prioritaria ma con diversi tentacoli come il decoro urbano Lo svuotamento progressivo del centro e di allarmi che più volte sono stati lanciati alle istituzioni Nel perdurare di questa congiuntura negativa Tutti però andati inesorabilmente a vuoto Ed ora queste sono sotto gli occhi di tutti le tragiche conseguenze Di parere concordante sulla linea del decoro e della PIL del centro storico Come deterrente per i malintenzionati anche Confcommercio Che vede però nella videosorveglianza un grande alleato delle forze dell'ordine A seconda appunto di chi andrà su per il discorso delle elezioni amministrative È logico che noi chiediamo che la città sia Devono avere un'idea di città La città deve essere decorosa La città deve essere appetibile E la città deve essere soprattutto sicura Perché è questo che crea poi l'indotto nel commercio Quindi se non si crea questo Logicamente non si può avere un'idea di città E riportare la città ad alti livelli Sulla necessità di una videosorveglianza più attiva e serrata Spinge da tempo anche Stefano Polleggioni Che però vede anche nel presidio del territorio Con pattuglie e sorveglianza attiva Un'ulteriore cellula di sicurezza utilizzando anche le forze di polizia locale Sono convintissimo che un'amministrazione comunale debba dare risposte ai cittadini anche in questo tema E quindi debba fare delle cose e mettere a disposizione le proprie possibilità Per cercare di rendere più sicura questa città Noi abbiamo la polizia municipale che capisco che è limitata su questo servizio Però noi la polizia municipale può fare e mettere in atto delle cose Che possono andare in aiuto e essere una forte collaborazione e collegamento con la polizia dei carabinieri Che purtroppo hanno un territorio grandissimo da controllare qui a Fano E proprio oggi si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Preseduto dal Prefetto di Pesaro Urbino Vittorio Lapolla In vista delle prossime festività pasquali sono stati concordati D'intesa con i rappresentanti delle forze di polizia e dei comuni Diversi controlli preventivi e di contrasto alla violazione dei limiti di velocità Il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza Nonché la guida in stato di ebrezza Nelle ore notturne saranno effettuati servizi lungo gli itinerari Seguiti dai frequentatori di discoteche e locali notturni Inoltre verranno intensificati servizi di vigilanza in quelle località della provincia Che saranno interessate dai flussi turistici Ancora cronaca Ieri pomeriggio è deceduto all'età di 65 anni L'ex presidente della società Olimpia Cucurano Giorgio Marchionni A causa di una grave malattia Marchionni oltre ad essere molto conosciuto nell'ambito sportivo Aveva insieme alla moglie Rita Verdini uno studio di consulente del lavoro Lascia la moglie e il figlio Giovanni Il funerale verrà celebrato sabato alle ore 10 nella parrocchia di Cucurano E adesso parliamo delle maxibollette dell'acqua Che molti cittadini fanesi dovranno pagare La coalizione di centrodestra ha deciso di inserire nel programma elettorale Un bonus bollette di 200 mila euro Per rimborsare almeno le famiglie in difficoltà economiche Quando saremo al governo della città Metteremo a disposizione un bonus bollette Per un totale circa di 200 mila euro Con il quale potremo andare a coprire L'aggravio che hanno subito le famiglie Per colpa di questo caro bollette E soprattutto le famiglie con due soli componenti L'accesso al bonus sarà chiaramente su richiesta Di chi ne avrà bisogno Abbiamo fatto una valutazione che potranno accedere Tutti coloro che hanno avuto un aumento superiore al 15% Tra il 2017 e il 2018 E l'attribuzione poi eventualmente del bonus Sarà in base ovviamente all'ISE lineare E quindi si stima all'incirca Un contributo per famiglia di circa 100 euro Ecco, come siete arrivate a questa proposta? Oltre alla beffa c'è stata la successiva beffa Di un annuncio da parte dell'amministrazione comunale Da parte di ASET di 50 mila euro Di bonus solo per le famiglie monoparentali Cioè per i single, per le famiglie con una sola persona Rimangono fuori tutte le famiglie che hanno due persone Quindi non ci pare giusto che siano proprio le famiglie Con due componenti ad assumere sulle loro spalle Tutta la criticità di questa situazione E anche le opposizioni sapevano degli effetti delle nuove tariffe A precisarlo oggi è il presidente di ASET SPA Paolo Reginelli All'intero consiglio comunale e gruppi di minoranza compresi Sono stati spiegati gli effetti in bolletta delle nuove tariffe Disposte dall'autorità nazionale Incluso il loro effetto retorattivo Reginelli si riferisce alla seduta del 10 gennaio scorso E aggiunge che già in quella fase Si era evidenziata la problematica del conguaglio dal 1 gennaio 2018 Nella stessa situazione di Fano, prosegue, si ritrova un po' in tutto il paese Dal nord al sud Italia E in ogni singolo caso sono state adottate le stesse tariffe Con le medesime tempistiche A partire dal luglio scorso ASET ha allegato in bolletta un modulo di autocertificazione E quindi ai cittadini è stato dato il tempo e il modo di aggiornare i dati utili ai conteggi Il tempo per assorbire le nuove regole della fatturazione Ha concluso il presidente, è stato davvero breve E adesso ci spostiamo a Carrara di Fano Dove i residenti chiedono di installare i dissuasori di velocità lungo la Flaminia Sentite Preoccupati per essere preoccupati lo sono Come anche decisi a far sentire la propria voce Sul tema della sicurezza stradale E dell'incolumità fisica loro e delle loro famiglie Sono i residenti lungo la Flaminia nella frazione di Carrara all'altezza del Civico 422 Il problema è l'alta velocità che tengono i veicoli in questo tratto di strada Che risulta a ogni ora del giorno ma maggiormente dopo le 18 Per non parlare poi proprio della notte dove sembra di essere ai bordi di un circuito di Formula 1 Si sentono oltre che in costante pericolo Attraversare la strada anche sulle strisce è una roulette russa ormai Privati anche della loro libertà individuale Fare una passeggiata con il proprio cane Si rischia di tornare a casa solo col guinzaglio Accompagnare i bambini in bicicletta Meglio cambiare idea E anche per accompagnarli a scuola I figli a soli 300 metri di distanza È più sicuro prendere l'auto Qualche anno fa una signora qui sulle strisce ad esempio l'hanno buttata sotto E nessuno si è fermato, ha rallentato Ha fatto diversi mesi in ospedale Comunque è in casa allettata perché non si può più muovere Quindi comunque la situazione è abbastanza critica Noi abbiamo anche i figli che prendono l'autobus qui davanti Quindi devono anche attraversare le strisce tutti i giorni E nessuno comunque rallenta, nessuno si ferma E la velocità è veramente alta Qui c'è la scuola elementare Purtroppo non ci si può andare a piedi Bisogna sempre utilizzare la macchina E questo non vedo che sia giusto Soprattutto per i bambini Passaggio pedonale ignorato completamente Ignorato totalmente Anche perché è un rischio Ogni volta che si attraversa Cerchiamo di migliorare questa cosa Tutela nostra E anche degli altri cittadini Pertanto le richieste dei residenti alla provincia di Pesaro Urbino Proprietaria del tratto di strada Sono ovviamente dissuasori di velocità E strisce pedonali illuminate E meglio evidenziate E naturalmente limiti di velocità più bassi Certo, il nostro è una segnalazione da cittadini Perché per prevenire Anche se già appunto qualche episodio c'è stato Proprio per prevenire anche eventuali futuri incidenti O disgrazie E quindi la nostra è una segnalazione da cittadini Per questo tratto di strada Affinché si possa fare comunque qualcosa Un intervento Abbastanza rapido Altri telespettatori invece ci hanno segnalato Oggi un forte odore in via Papiria a Fanno All'altezza della zona industriale di Bellocchi La nostra redazione ha contattato l'ARPAM regionale Responsabile del Dipartimento di Aria L'ufficio ci ha confermato che in queste settimane Stanno monitorando le emissioni della zona Ed effettuando delle campionature di aria Ma i risultati saranno disponibili soltanto a fine mese Per ora, come ci hanno riferito Non è possibile avanzare nessuna ipotesi Primo prelievo multi organo dall'inizio dell'anno All'ospedale Santa Croce di Fano I familiari di un paziente deceduto In reanimazione hanno consentito Alla donazione degli organi L'attività di prelievo è iniziata nel pomeriggio di ieri Per concludersi nella nottata Un riconoscimento particolare Per l'estrema sensibilità e generosità Dimostrata in un momento così doloroso Dai familiari della signora deceduta Commentano i medici coinvolti nelle procedure E l'impegno di tutti i professionisti della salute Hanno reso possibile ancora una volta Riaccendere la speranza per altre vite Adesso torniamo a parlare delle elezioni comunali Perché si stanno definendo le liste Che appoggeranno i quattro candidati a sindaco di Fano Ieri pomeriggio è stata presentata Quella del Partito Democratico Una squadra coesa, competente e pronta a fare di più Con queste parole il segretario del Partito Democratico di Fano Alberto Bacchiocchi ha presentato la lista dei 24 candidati alle prossime elezioni comunali Tra loro ci sono operai, piccoli imprenditori, liberi professionisti e tecnici specializzati Volevamo che la disponibilità, ha precisato Bacchiocchi Nascesse dal basso, dagli iscritti e dai simpatizzanti Evitando che fossero i vertici del partito ad indicare chi dovesse candidarsi Prima di presentare la nuova squadra il segretario ha ringraziato i compagni Che hanno profuso in questi anni un grande impegno Un riferimento agli amministratori uscenti che hanno rinunciato alla candidatura Come i consiglieri Terenzio Ciaroni, Sergio Del Rico, Francesco Torriani, Renato Claudio Minardi La presidente del consiglio, Rosetta Fulvi e l'assessore Marina Barnesi E' venuta fuori una squadra di cui sono orgoglioso di in qualche maniera guidare E' una squadra che punta alla continuità anche nei prossimi 5 anni Con l'augurio che il nostro candidato Massimo Seri possa continuare a governare la città Proprio in questa ottica ho chiesto anche a tutti gli amministratori in carica di confermare il proprio impegno Al tempo stesso abbiamo costruito una squadra molto nuova, molto fresca, giovane, competente Quindi siamo convinti di poter continuare a giocare un ruolo importante all'interno di questa amministrazione e di quella futura Abbiamo rappresentato il maggior numero di sensibilità Ha proseguito Bacchiocchi da quella sociale a quella ambientale, da quella economica a quella culturale Ma prima di tutto, a concluso, volevamo persone per bene e disponibili ad impegnarsi E credo che l'obiettivo sia stato raggiunto C'è un progetto per continuare, per proseguire verso questa direzione Ma soprattutto la cosa bella con tanti nuovi giovani, tante nuove competenze Tante nuove intelligenze che si affiancano a quelle che hanno avuto già esperienza Chiusi i rapporti tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ghetti Museum di Malibu Lo si prende da fonti MIBAC dopo la riunione del Comitato per il Recupero e la Restituzione delle Opere Trafugate che si è tenuta ieri sera alla presenza del Ministro Bonisoli La decisione, che farà eccezioni soltanto per gli accordi già stipulati e quelli in fase di avanzata realizzazione, riguarderà qualsiasi tipo di scambio o di prestito con il Museo Il Ghetti, infatti, sempre a quanto si apprende, non ha per ora dato alcun seguito alla sentenza della Corte di Cassazione Italiana che prevedeva la restituzione dell'atleta di Fano, il Lisippo Il Comitato ha discusso anche di altre quattro opere esposte al Ghetti Due che risultano rubate in Italia e due che sono stati esportati illecitamente su cui si avvierà immediatamente un percorso diplomatico per la restituzione Ed ora ci spostiamo a Pesaro dove nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Circolo della Stampa Tra i premiati anche il cantautore e pianista Raffaele Gualazzi Tutti particolari nel servizio di Francesco Salvago Giunto alla sua 35esima edizione si è svolto martedì scorso presso l'Auditorium di Palazzo Montagna Pesaro il Premio Circolo della Stampa, erede del Cigno, storica iniziativa dell'Associazione Stampa Pesarese, svolta dal 1964 al 68 La manifestazione patrocinata dall'Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti ha avuto lo scopo di focalizzare l'attenzione dei pesaresi di nascito o di adozione della provincia che abbiano conseguito particolari meriti nei settori del sociale, dell'imprenditoria, della cultura e dello sport Tutti coloro che sono stati premiati oggi hanno respirato la bellezza, la creatività, il genio, la tenacia Il consiglio direttivo per questa edizione che si annovera fra le più longevi d'Italia ha deciso di premiare il designer di alta gioielleria Luca Iacomucci il top manager Blomberg Andrea Mosconi e il cantautore e pianista Raffael Gualazzi Sono molto onorato di questo riconoscimento reputo che sia molto importante ispirarsi al proprio territorio e a tutte le bellezze che lo contraddistinguono per poter incrementare il proprio linguaggio artistico e la propria cifra stilistica Due premi orcoglio pesarese invece sono stati conferiti a Carlo Pensalfine Walter Gnassi e alla potessa Valentina Balducci Sono profondamente onorato di aver ricevuto questo premio e credo che non dimenticherò mai questo giorno è per me fonte di forza da cui trarrò spunto per il futuro per continuare nel mio sforzo per dare un po' di lustro a quella che è la condizione di molte persone Infine il consiglio ha conferito anche un premio speciale alla società Pesaro Rugby per il traguardo dei 50 anni di storia E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è poi un approfondimento di CNA con il candidato a sindaco di Pesaro Matteo Ricci sui temi dell'economia e della piccola impresa e a seguire dopo il telegiornale di mezzasera la partita di pallavolo di serie A2 della Golden Plus Potenza Piccina Quello che vedete fra poco in sovraimpressione è quello qua, il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 3 3 8 4 9 6 8 2 5 0 Grazie per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla notizia e arrivederci a domani Grazie per aver guardato il nostro canale